Diciamo la prima cosa, quando aumentano i tassi di interesse, lo può fare la banca centrale, in questo caso la Federal Reserve, aumenta anche il valore di solito della tua valuta, ossia più rende il tasso di interesse quanto rende la moneta, più il dollaro rende più la gente compra dollari e vende altre valute, quindi venderà euro e quindi è immaginabile che se la Fed annunciasse un aumento dei tassi giovedì l'euro perderebbe un po' rispetto al dollaro, ma soprattutto aumenterebbe o continuerebbe la fuga, lo spostamento di capitalità tra le economie emergenti, in primo luogo la Cina, ci troviamo i 103 miliardi del primo trimestre, verso una valuta più forte che rende di più, nel frattempo la Cina è anche svalutato, ma non è solo la Cina, vale per il Brasile, vale per l'India e per gli altri paesi, questo è un primo aspetto e sarebbe il segnale che la Fed va avanti per la sua strada, dice l'economia americana è abbastanza forte per reggere un inizio, di aumento dei tassi graduale, ma insomma come inizio e come tendenza, per cui aumentare il costo del denaro, così controlliamo un po' l'inflazione, perché quando un'economia gira troppo, se non parte l'inflazione, aumenti il costo del denaro, la raffreddi un po', il dollaro si rafforzerebbe e aumenterebbero i flussi di valuta dai paesi emergenti e anche dall'area euro verso l'economia americana. C'è però un'altra considerazione da fare e giro la domanda a Moria Longo del Sole24ore, buonasera Moria, non è solo il classico, quello si studia in Economia 1, non so come si chiama adesso, proprio nei primi esami di economia, però c'è qualcos'altro, perché questi paesi emergenti hanno un debito che in buona parte è espresso in dollari, Moria. Sì, è questo che veramente preoccupa, se la Federal Reserve alza i tassi di interesse anche di poco, i tassi di interesse americani, come dicevi tu, il dollaro tenderà a salire, a rafforzarsi, questo crea una serie di problematiche, soprattutto sui paesi emergenti, perché negli anni d'oro, quando la Federal Reserve stampava dollari, molte aziende di paesi emergenti si sono indebitate in dollari. Perché era conveniente. Per cui se il mio debito mi costava, come tutti i debiti, un interesse dell'uno, però i nuovi debiti verranno rinegoziati con un tasso più. Ma il vero problema è il rialzo del dollaro, tenete conto che non so, valute come il real brasiliano, quest'anno ha già perso il 31% sul dollaro, tutte le valute dei paesi emergenti sono già tracollate, se la valuta del paese tracolla e il dollaro sale, l'azienda che ha debiti in dollari ma sta in Brasile deve pagare di più per imborsare i debiti. È come se tu hai il debito in dollari e fatturi in real o fatturi in one, sei nella peggiore delle situazioni perché il tuo debito aumenta nel rapporto di cambio, è un po' come se uno avesse un debito in dollari e fatturasse in euro, vale anche per l'euro, il principio non cambia. Aumenta il valore del tuo debito e perché? Perché aumenta il valore del dollaro e tu però fatturi in euro o in real o in one o in rupie o in quello che vuoi e quindi hai un rapporto svantaggioso. Da lì però che cosa ne consegue Moria? Allora ne consegue che innanzitutto molte aziende, la maggior parte delle aziende dei paesi emergenti non si sono coperte dal rischio di cambio, quindi sono esposte, si calcola che il 70% dei debiti delle aziende dei paesi emergenti non è coperto dal rischio di cambio. Anche qui scusami la precisazione, tu ti puoi coprire come con un'assicurazione in derivati, dici vabbè se per caso il dollaro si rafforza molto e il real, fossi io brasiliano, si deprezzasse molto io almeno ci guadagno investendo con uno strumento a leva derivato su un eventuale aumento del dollaro, così quello che vado a perdere da una parte mi ricopro dall'altra, prego. Il problema qual è? Che appunto non essendosi in gran parte coperta dal rischio di cambio, se il dollaro sale il loro debito sale di tanto quanto sale il dollaro, primo problema. Secondo problema, molti paesi emergenti sono esportatori di materie prime, le materie prime sono ai minimi storici, cioè non storici, ai minimi da molto tempo, il petrolio, ma tutto il rame, tutte le materie prime. Questo anche perché il dollaro si sta rafforzando, dato che le materie prime si comprano in dollari, più il dollaro si rafforza, più per tutti gli altri diventano costose e quindi il prezzo delle materie prime tende a scendere. Questo sta penalizzando i paesi emergenti, che quindi hanno un problema non solo di dollaro che sale, ma anche di materie prime, che in molti casi è la fonte principale della loro ricchezza, che si deprezzano. E ci sono aziende, prendiamo il caso della Gazprom, Gazprom, azienda russa, colosso mondiale del Gazprom. Allora, non solo sta in Russia, che è un paese che ultimamente è in recessione, ha un problema di politica internazionale, la crisi in Ucraina e così via, non solo il rublo è crollato, ma Gazprom ha circa l'80% del debito denominato in dollari o in euro. Quindi per Gazprom, diciamo, la situazione è molto complicata. Stesso discorso per un'azienda brasiliana del petrolifero a Petrobras, uguale, il Brasile è in recessione, il petrolio è sceso moltissimo e ha molto debito, adesso non ricordo, mi sembra il 60-70% denominato in dollari. Per tutte queste aziende, sono tante, il problema è che se la Fed alza i tassi di interesse, il dollaro sale, i tassi di interesse in dollaro salgono e quindi per loro le difficoltà diventano maggiori. Da lì appunto il ragionamento che si fa anche sui mercati, finché non sappiamo cosa farà la Federal Reserve giovedì, si ballerà ancora. Prima o poi la Fed, sti tassi, lo dico che Menochini li rialzerà, molti sostengono che debba farlo già adesso, cioè non curarsi di quello che sta capitando in Cina, della recessione in Brasile, dell'alentamento cinese, andare dritta per la sua strada, dimostrando che poi è l'America che ha la leadership economica, oltre che militare, a livello mondiale e questo è innegabile visto che è l'economia che più sta trainando. Se non lo farà adesso lo farà a novembre, lo farà a ottobre, ma è difficile, mi inviso a quello che leggiamo, che non lo faccia entro l'anno. E quindi il ragionamento che si fa sui paesi emergenti è duplice, tu avrai una svalutazione della tua moneta, aumenterà il costo dei tuoi debiti in dollari, che sono tanti, e vi sarà anche un danno sulle materie prime perché tu avrai maggiore difficoltà a esportarle, costeranno di più, e aggiungo io, non avrai nemmeno la grande idrovora delle materie prime, che era la Cina, perché rallentando la Cina anche la Cina chiede meno materie prime, chiede meno rame, meno alluminio, meno zinco e via così. E quindi i paesi che basano la loro economia principalmente su uno, due, tre materie prime da esportare, vedono peggiorare le proprie prospettive. Grazie Mario Longo per la chiarezza che gli è abituale. Da Sebastiano Berisoni il lavoro di una buona serata, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Grazie a tutti.